No, ti volevo dire che io non dirò... Non dico proprio nulla di quella cosa lì, eh Gloria? No. Eh, ma hai rotto le balle, lo stavo per dire, e poi mi hai inibito, e quindi non dico un cazzo. Ecco, quindi non solo non dico un cazzo di quella cosa di cui volevo dire, ma non dico neanche cos'è la cosa di cui non volevo dire niente. Così va bene? Ti sei ripresa un po'? No. Sei molto stacca? Un po' sì. E allora che cazzo di... Come tutti. Non credo di essere la sola. No, io sì, è vero. Bene, allora vogliamo dire qualcosa su questi pezzi in libertà che dopo tre anni esatti, due anni di masterpiece, Marvel Masterpieces, più un anno e sette, otto mesi, più un anno del mio adorato Sharky, tantissimi saluti all'uomo più grande, the most fuckable guy in Scotland, tantissimi saluti. E quindi, finalmente, la libertà. E fare quel che mi pare. Beh, prego, prego. Basta, non voglio dire altro, ci ho detto anche troppo. Ma io non è che ti volevo inibire. Vai, vai. Intanto sto tentando di riprendere con le luci cambiate, visto che siamo nello studio nuovo. Eh, qui lo so, e qui vedi che sei tecchettisi e rompi le balle perché ora tutti vorranno dire, ah, lo vogliamo vedere. Fai vedere solo questo. L'oblò, cioè questo è quello che vedo io dal mio nuovo studio. Col misero tempo toscano. Così, di merda di oggi. E poi per capire quanto ha piovuto, guardate le balle di Fieno che sono nere. Te ne rendi conto? Sì, è vero. Quelle erano gialle tre settimane fa, prima di un, che era, Luca Comix, vabbè, insomma. E comunque questo è un obblò che peraltro ti vorrei far notare l'ho già sporcato in una settimana che sto dipingendo qui. Ah, è vero. Eh, tanto. Vabbè. E quindi, grande libertà, dettagli, a quanto siamo? Finalmente siamo quindi ritrasferiti nello studio definitivo e senza scatoloni. Quindi a breve. Aspè, ci allarghiamo. A breve. Quasi senza scatoloni. Vabbè, rispetto a com'era con una quantità ridicola di scatoloni. La... L'LV la riflessione. E quindi... E quindi è tutto molto interessante, è tutto molto... E dovremmo anche essere nei tempi giusti. Quindi io direi che... Però sappiate che siccome mi sto divertendo come un matto a fare questo caso in libertà, con i miei guantini... Anche questo, lasciamo questa suspense. La scossa sarà nulla. C'ho le mani distrutte e quindi c'ho la crema sotto. Bene, con questo siamo a 3 minuti e 05. Ci sono un paio di fratelli che vorrei salutare moltissimo, ma non li saluterò. Ciao. Ciao.